Una settimana estremamente volatile per quanto riguarda il mercato delle cripto ma che si conclude con un nulla di fatto, con due shadow pronunciate, soprattutto quella up dopo il rialzo che era avvenuto, ma fechissimo, che è stato praticamente recuperato subito in pochissimo tempo, quasi il giorno dopo se non sbaglio, e in pratica il mercato non ha fatto assolutamente niente, solo ed esclusivamente volatilità. Ma inizia il nuovo mese, ci sono tanti grafici da andare a vedere, soprattutto questo che riguarda il grafico mensile di Bitcoin, il suo percorso, la sua camminata verso quello che potrebbe essere anche una nuova fase di up, quindi una nuova eventuale bull run che è quella che poi tutti ci aspettiamo per i prossimi anni, come sta andando, dove è diretto e poi altre cose. Per esempio alla grafico di tipo annuale, perché volevo farvi vedere una piccola chicca che abbiamo ideato in pratica nel lontano gennaio 2023, quindi tantissimi mesi fa, ma che stanno in pratica andando assolutamente molto molto bene. Allora vi faccio vedere un po' anche quelle che sono i dati di natura macro, perché la scorsa settimana un dato macro diverso dal solito è uscito fuori ragazzi, cioè il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti per la prima volta è salito al 3,8%, quindi 0,3% in più rispetto alle attese. Questa era una cosa che non avveniva veramente da tanto ed è il primo segnale vero della fase degli effetti sul tasso di disoccupazione e del rialzo dei tassi di interesse. Tanto è vero che immediatamente dopo che questo dato macroeconomico sia andato a modificare ed è stato peggiorativo rispetto alle attese, quello che è successo è stato questo ragazzi. Cioè sostanzialmente un rialzo delle probabilità che il tasso di interesse che la Fed dovrà eventualmente rialzare il prossimo FONC fra 16 giorni, quindi a settembre, il 20 settembre non verrà assolutamente modificato. Guardate qui, quindi 93%, prima qui c'era un 20%, subito, immediatamente dopo il dato del tasso di disoccupazione degli Stati Uniti salito al 3,8%, si è andato a rimettere tutto con un... La Fed non fa nulla. Perché ragazzi? Perché se vi ricordate, chi mi segue da tanto tempo lo sa, io ho specificato che questo è l'unico vero indicatore macroeconomico che la Fed guarderà per quanto riguarda i tassi di interesse. Ancora siamo bassi, quindi il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti è ancora molto basso, deve salire almeno intorno al 4,5-5%, quindi ci siamo però è vicino. Quindi oltre quella cifra, già intorno al 5%, con poi le politiche americane che ci saranno nel 2024, difficilmente la Fed accetterà una cosa del genere. Quindi qualora il tasso di recessione dovesse impattare sul mercato del lavoro degli Stati Uniti, spostando il tasso di disoccupazione a un livello molto alto rispetto a quello attuale, più alto rispetto a quello attuale, la Fed interverrà e quindi i tassi inizieranno a scendere. L'exit strategy da questa politica restrittiva avverrà solo e unicamente in base a questa variabile, ragazzi. Non ve lo dimenticate, è la variabile più importante per quanto riguarda il tasso della Fed. Andiamo a ragionare cosa succede poi dopo, ragazzi. Succede che tutti gli asset che sono fortemente reattivi alla volatilità della moneta, quindi alle emissioni monetarie, reagiranno in maniera estremamente importante. E guardate qual è uno dei mercati più reattivi, Bitcoin e le criptovalute, uno dei mercati più reattivi a questo tipo di politica. Ovviamente anche le azioni, quindi le stocks e le commodities, sono fortemente reattive a queste cose. Andiamo a vedere un po' cosa attenderci questa settimana per vedere se ci sono dei dati che possono essere interessanti. Poi passiamo all'analisi di quelli che sono invece i grafici, che ci interessano di più. Allora, non ci sono dati importanti. Oggi giorno di festa per quanto riguarda la giornata dei laboratori negli Stati Uniti, quindi mercato tranquillo. Poi due giorni della card che parla e ripeterà un pardella probabilmente le solite cose, tutto quello che ha già detto Paolo e quindi in pratica siamo sempre un po' nei mercati finanziari. L'Europa è sempre sotto il gioco americano perché non riusciamo mai a imporci nella nostra economia come punto di riferimento, ma siamo sempre follower rispetto a quelli che sono gli altri mercati. Non ci sono grandi dati, se non quelli di giovedì 7 settembre, che possiamo andare a guardare perché riguardano proprio il tasso di soccupazione, che teoricamente dovrebbe essere maggiore. Quindi le richieste di sussidi dovrebbero essere maggiore. Ma siamo ancora lontani da una situazione che ci fa capire che questo dato si sta andando a peggiorare. Ovvio che se rispetto al previsto questi 235k dovessero peggiorare, quindi aumentare, quindi essere per esempio 300k, allora lì il mercato reagirà. Ma attenzione, la reazione sarà positiva e non negativa, come molti si aspettano, perché questo è un dato che teoricamente, seppur peggiora il dato dell'economia globale e quindi ci manda un po' la preoccupazione della recessione, migliora il fatto che blocca la manova della Fed e fa anche capire che l'inflazione scenderà perché poi è tutto collegato rispetto anche all'andamento dei prezzi. Perciò a quel punto probabilmente avremo una reazione positiva dei mercati, seppur magari di breve durata, però ci potrebbe essere. Fatto un po' tutti questi ragionamenti, io passerei all'analisi di quello che è il nuovo mese di Bitcoin, nuovo mese di settembre che si apre con un livello importantissimo da andare a difendere, cioè il livello della media mobile a 12 mesi, quindi l'annuale di Bitcoin, che deve difendere assolutamente per evitare disastri, diciamo un po' così. Il problema qual è, ragazzi, che già vi faccio vedere anche altri dati storici, così andiamo a confrontare un po' questa cosa. La difesa della media mobile a 12 periodi, attenzione che non è importante che venga bucata, ma sostanzialmente che funga da livello intorno al quale il mercato oscilla. Per esempio, nel 2019, se eliminiamo la questione della pandemia, che sono queste due candele, marzo e aprile, legate appunto alla pandemia, vedete che la media mobile a 12 mesi aveva retto sostanzialmente la fase ribassista, era riuscita in pratica a tenere la direzionalità del mercato, a indicarci la direzionalità long ancora del mercato. Io queste due candele le escluderei per una questione legata all'effetto pandemico che è senza dubbio un'eccezione centenaria rispetto alla natura delle cose. Per esempio, nell'annuali precedenti della Burran, per esempio quella migliore dal 2015-2018, la struttura di Bitcoin era stata mantenuta addirittura sopra la media mobile a 6 mesi, ragazzi, questo è stato uno dei più grandi up trend della storia, secondo me, rispetto alla sua linearità, che se andate a guardare veramente era di una banalità incredibile. Qui non c'era neanche un trade da fare, perché il mercato non ha mai, mai invertito il trend, se non in questa zona qui, vedete qua, poi quando è uscito. Quindi bastava veramente l'ABC del trading, quindi una delle lezioni più semplici per cavalcare l'intera onda rialzista del 2017. Era veramente semplice. Anche questa non è stata molto difficile, solo qui vedete poi verso gennaio 2022 il mercato aveva cambiato, diciamo, questa direzionalità. Andiamo a vedere la questione attuale. Allora, questa media, intanto già il fatto che noi siamo andati a breccare questo livello dei 6 mesi subito, immediatamente, vi fa capire come il mercato, rispetto alle altre frasi di app, è assolutamente molto più debole. E questo è dovuto al fatto che il mercato delle crypto sicuramente non è più nell'occhio dei riflettori, perché è stato surclassato dal livello emotivo, dalla questione delle AI, che quest'anno hanno cavalcato il trend della tecnologia, senza ombra di dubbio sì, ma anche è relegato al fatto che il mercato delle crypto subito per la prima volta in 20 anni, cioè in circa 10-12 anni il mercato delle crypto in 20 anni invece di tassi, il rialzo dei tassi di interesse a livelli enormi, cosa che un asset finanziario subisce in maniera pesante. Quindi questa fase rialzista è leggermente più debole delle precedenti, è anche dovuto a questo. C'è una teoria, teoria che, anzi vi faccio anche una domanda, se volete ne parliamo, però io quando parlo di queste teorie poi qualcuno non capisce perché ne parliamo, però quindi vi chiedo precisamente, vi faccio una call to action, come si suol dire, scrivetemi nei commenti se volete parlare di una teoria che indica la possibilità che questo ciclo annuale per la prima volta di Bitcoin vada a fare nuovi minimi in questa zona e che quindi in questa struttura qui per la prima volta entro il 2024, il primo trimestre del 2024, si vada a disegnare un annuale ribassista di raccordo in pratica di tutto quello che sono gli annuali precedenti e in sostanza va a definire una struttura di natura ternaria così. Allora se volete ne parliamo di questa ipotesi, possibilità, probabilità, eccetera, però ve la chiedo nei commenti perché se non gli interessa non ne parliamo perché una cosa sono le ipotesi, poi molti si confondono e dicono avevi detto quello, no, quelle sono ipotesi che magari dedichiamo un video anche per ragionare, aprire la nostra mente, imparare a capire come si analizzano i mercati e a prepararci a scenari diversi, anche scenari un po' da cigno nero come quello, però io non lo vedo questo scenario come probabile, però se ne parliamo perché no, perché poi alla fine i mercati prepararsi diciamo non fa mai male, no, ai mercati, quindi è una cosa che possiamo fare insieme. Quindi se vi interessa scrivetemelo nei commenti, ovviamente ragazzi lasciatemi un mi piace, mi aiutate con l'algoritmo, lo sapete, anche in queste cose, quindi su con la manina e cliccate su vi piace sul video. Va bene, andiamo avanti allora, per quanto riguarda questa cosa qui, la perdita della media mobile a 12 mesi secondo me è deleteria, soprattutto in una fase del genere per quanto riguarda Bitcoin, ma dobbiamo poi vederla da un punto di vista mensile, cioè di chiusura mensile, non vi dimenticate, una shadow eventuale che magari possa scendere un pochettino in questa zona, non è preoccupante se poi alla fine del mese si va a richiudere vicino alla media mobile, come per esempio è stata questa candelina che vedete in questa zona rossa, oppure anche le precedenti che avevano fatto una shadow di break, quindi quelle volatilità il mercato l'accetta sempre, insomma la volatilità fa parte del gioco. L'importante è che non vada a chiudere in maniera pronunciata di sotto di questo livello, per esempio ci va a fare una candela mensile che ci chiude intorno ai 21.000-21.500 dollari, quindi lì la questione è preoccupante perché questa ipotesi che vi dicevo si va a delineare in maniera molto più probabile poi, cioè se fa una cosa del genere, e soprattutto se lo fa in questo momento storico, che è un momento in cui sì, è pur vero che abbiamo superato probabilmente la fase di up del ciclo annuale, quella standard, però è anche vero che la chiusura del ciclo annuale è molto lontana, quindi una cosa del genere sarebbe estremamente negativa. Quindi mi raccomando il livello di supporto per tutto il mese di settembre è questo qui, è il livello dei 24.000 dollari circa, 24.500 e soprattutto non deve mai chiudere intorno a queste zone 22.000 eccetera. Ovviamente i prezzi sono molto ampi perché stiamo guardando candele mensili ragazzi, quindi non può che essere così. La questione legata invece ad eventuali rimbalzi, e queste insomma sono analisi sempre di lungo periodo, il mercato cambia aspetto se il mese si rimette in sesto al di sopra di questa media mobile a 6 mesi, e quindi a 28.000, quindi se riesce a breccare e a chiudere sopra i 28.000, meglio 29.000, in quel caso cambia tutto l'aspetto e il mercato è pronto senza ombra di dubbio a poter tentare un nuovo attacco alla zona 34-35.000, ma questo diventa un'area di resistenza quindi importante. Allora io vi ho indicato i due livelli più importanti per il mese di settembre, e sono quelli che andremo anche a monitorare ragazzi, quindi queste due aree sono in zona importantissima. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda la settimana, quindi un po' per giocare di breve periodi. Allora qui il grafico delle close parla chiaro, il mercato è in barra di congestione laterale leggermente lì bassista sui prezzi dei 26.000 dollari, quindi in pratica oscilla a scendere sui 26.000 dollari. Il livello di supporto dei 25.000 sulla candela settimanale sta tenendo banco, ovviamente è il minimo dal quale è partito in pratica questo ciclo che è teoricamente anche un ciclo semestrale, quindi la seconda parte del ciclo annuale, che se è in effetti breccata con questa velocità sarebbe deleteria perché andrebbe a poter indicare un'eventuale fase di bassista che prosegue. Io ho solo un minimo dubbio, ve lo spiego, cioè il fatto che se questo minimo che è sui prezzi di Bitstamp è indicato a 24.700 e Bitstamp non l'ha mai rotto ragazzi, quindi su altri li trovate più bassi, ok? Quindi questo poi è un po' un gioco delle parti, bisogna cercare dei dati puliti per fare queste analisi al dettaglio e purtroppo nei mercati delle cripto non sempre questo è possibile e a volte appunto i dati non sono pulitissimi, però io mi trovo bene diciamo con questi grafici, uso anche quello di Bitfinex, ma in questo caso quello di Bitfinex per esempio è un minimo inferiore. Però questa zona qui ragazzi potrebbe in effetti essere solo una lingua di buyer del ciclo semestrale, anche qui un'anomalia tecnica, quindi se dovesse fare una mini shadow e poi recuperare al di sotto dei 24.500 per quanto riguarda Bitstamp per esempio, ma potrebbe essere anche indicativa della possibilità che qui sta facendo questa lingua di buyer, questa anomalia tecnica di raccordo di due cicli e potrebbe a quel punto riprendere poi una fase up avendo fatto appunto questa barra di congestione, ma lì sarebbe anche facile da tradare perché? Perché la ripresa dovrebbe essere immediata e molto veloce, poi c'è una tecnica molto semplice per tradare le lingue di buyer in questo caso ed è facile dal punto di vista di trading, è una tecnica semplice, quindi se non ritorna app in pratica non si compra mai e quindi si è molto protetti, perciò una lingua creata anche su un semestrale potrebbe essere una ghiotta occasione per un trader di fare questo long, ovviamente io la monitoro questa cosa qui, poi qualora dovesse dare un segnale ve lo indico su YouTube, ovviamente in Academy lo faremmo proprio anche manualmente, faremmo sicuramente il trade dovesse avvenire una cosa del genere. Ne parliamo poi appunto con calma ragazzi, se avviene poi magari in caso ve la spiego con una lezione dedicata. Allora questa fase qui al momento non ci dà nessuna informazione, se non quella che vi sto dicendo, solo e esclusivamente oscillazioni, solo per fare dei trade come la scorsa settimana, up and down palesemente manipolati per tradare in pratica, ma c'è stato anche il touch di quello che era la media, in questo caso sul settimanale a 12 settimane. Media a 12 settimane quindi del ciclo trimestrale che ha fatto da tappo e soprattutto siamo al di sotto di queste due medie mobili, il mercato appunto come vi dicevo o chiude un ciclo e si riporta al di sopra di queste medie o diventa estremamente debole perché più passa il tempo più si indebolisce, considerando anche il fatto che andiamo vicino alla possibilità che Bitcoin vada a chiudere un ciclo trimestrale a brevissimo, la possibilità che c'è a meno di appunto come vi dicevo qualche giochino del mercato e potrebbe avvenire a momenti, cioè o essere avvenuto nella scorsa settimana col minimo in questo caso di 25.300 oppure a momenti questa settimana o l'altra, vedete, quindi intorno ai 90 giorni, insomma tra 70 e 90 giorni classico. Monitoriamolo questa cosa perché potrebbe essere appunto un raccordo, anche questo, interessante. Certo un raccordo di un trimestre è molto strano per un semestrale, però io quella ipotesi la tengo sempre in gioco ancora per questa settimana. Allora, qui vi ho spiegato un po' di dati, non abbiamo fatto il grafico giornalieno ma non c'era bisogno e poi soprattutto questi grafici invece app, questi grafici lunghi sono interessanti. La chicca che vi avevo promesso, fine video, è ragazzi interessante. Questo grafico l'abbiamo disegnato a gennaio, queste resistenze e supporti li abbiamo disegnati a gennaio. Guardate il livello di resistenza del 2023, come ha indicato, ve lo ripeto, li abbiamo disegnati a gennaio, andate a riprendere quelli che sono i video di gennaio, trovate questi livelli, sono gli stessi, guardate come ha protetto l'aria, il livello di resistenza. Interessantissimi. Ragionare così, vedete, indicando a ogni inizio anno, come facciamo, tutti quelli che sono i livelli che poi il mercato andrà ad agire, dà delle grandi informazioni, perché in quest'area, teoricamente, anche qualcuno magari un po' schillato, ma sempre un holder, poteva anche decidere di prendere un po' profitto da alcune posizioni, soprattutto se era riuscito a entrare all'inizio di questa fase, ed è un po' anche quello che abbiamo giocato anche noi, con dei fake, perché poi la possibilità di arrivare anche a prezzi alti, oppure che questa resistenza fosse sbagliata, dobbiamo sempre metterla in conto, quindi bisogna sempre stare sul mercato, sul chi va là, nelle aree di snodo, però alla fine sembra siamo riusciti ad uscire in tempo da questa situazione per lasciare poi al mercato l'ultima parola. Avete visto come è interessante appunto anche questo grafico. Va bene, per oggi è tutto, vi auguro buon inizio settimana e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!